Com'è il 2014? In politica, nel sociale, nei posti di lavoro, nelle strade, in famiglia, ci dobbiamo impegnare affinché i problemi dobbiamo svilupparli, prendere coscienza di questi problemi che ci sono, che solamente noi possiamo affrontare e possiamo risolvere, senza delegare o a chi deleghiamo, diciamo, di essere al loro fianco, di vedere se veramente questi problemi li vogliono risolvere. Ecco, questo è l'augurio che faccio prima di tutto a tutti quanti noi. Allora, oggi abbiamo una persona molto preparata su queste cose, abbiamo Mario Fracasso, che facciamo un tipo di intervista a lui. Come vorrebbe questo 2014? La prima domanda è, in questo momento, in ogni parte del mondo, ci sono dei focolai di guerra. Secondo lei, Mario, la guerra può risolvere i problemi? Bisogna capire cosa intendiamo per guerra, perché la guerra imperialista, la guerra di occupazione, la guerra di sterminio, che purtroppo le grandi potenze, le multinazionali, i governanti che sostengono queste multinazionali, sostengono la loro sete di occupazione, di sfruttamento, non risolvono i problemi delle popolazioni. Queste guerre creano solamente distruzione, creano solamente genocidi, creano solamente oppressione e che generano altre guerre poi, altre guerre che io però preferirei più, guerre di classe, cioè che l'ho presso, che l'ho sfruttato, che il popolo faccia la sua guerra, che è una guerra, diciamo, contro questa guerra qua, contro la guerra imperialista, che purtroppo la storia umana, diciamo, se andiamo un po' dietro, ci sono sempre state queste guerre, e il popolo purtroppo ne è uscito, alle volte sconfitto, alle volte ha vinto, diciamo, e che però poi dopo non hanno fatto più gli interessi popolari, queste guerre, rivoluzioni, io le chiamerei poi le rivoluzioni popolari, le rivoluzioni comuniste, le rivoluzioni socialiste che sono avvenute in tante parti del mondo. Però ritornando al discorso della guerra, dobbiamo capire che cosa intendiamo, ecco, perché il proletario, il popolo, vediamo che ogni giorno in guerra, ogni giorno per la sopravvivenza, la guerra che deve fare quotidianamente per tante famiglie, diciamo, di trovare lavoro, di difendere il proprio lavoro, di difendere i propri diritti soprattutto, anche quella è una guerra. Non dobbiamo solamente vedere la guerra, diciamo, di occupazione che fanno i tanti governanti, tanti padroni, diciamo, di tutto il mondo, come il Medio Oriente, come il popolo palestinese, ad esempio, sta subendo una guerra di, una guerra genocida, una guerra da anni e anni, perché vuole avere, diciamo, la sua terra, vuole avere i propri diritti. Ecco, però ritornando a prima, non risolvono, non risolvono i problemi, anzi, anzi, alle volte li fa aumentare. Ho capito. Allora, ci sono popoli occidentali, oppure una piccola appartenenza ai popoli occidentali, che dicono che si nascondono la parola libertà nella democrazia. Cioè, vogliono divulgare la democrazia nei popoli più sottosviluppati, possiamo dire così. Anche perché, o forse, meglio dire, non vogliono, perché non hanno le capacità di svilupparsi, perché magari ci sono popoli più forti che sottomettono, e si nascondono con la parola libertà, oppure il sinonimo è democrazia. Che cos'è la libertà? Ecco, intanto chiariamo, non è il popolo, diciamo, che cerca di portare... È una piccola parte, è una piccola parte. È una piccola parte, diciamo, che poi è sempre quella che, dicevo prima, sono i padroni con i loro governanti che credono di avere, siccome hanno il potere, e pensano di portare la parola, intanto democrazia vuol dire governo del popolo, e del popolo che dovrebbe governare, che dovrebbe, diciamo, gestire la vita di una comunità, la vita di un paese, che questo non sta avvenendo, non è mai avvenuto, se andiamo un po' indietro negli anni. Allora, se vogliamo parlare veramente di democrazia, è il popolo che dovrebbe, diciamo, come dicevo prima, impegnarsi in tutte le forme possibili, 24 ore su 24, affinché questo governo, la propria vita, la vita di un popolo, venga veramente soddisfatta, venga veramente difesa da altri interessi, che sono quelli interessi dei padroni, quelli interessi dei pochi sanguisugi, che vogliono sfruttare il popolo. Solamente così si può parlare di democrazia. Purtroppo nell'Occidente, soprattutto, questo non è mai avvenuto, è avvenuto dietro la parola democrazia, però il popolo ha sempre sofferto, il popolo ha sempre subito, diciamo, delle ingiustizie, ha visto sempre negare i propri diritti, i diritti, diciamo, di vivere veramente una vita degna di essere vissuta. E allora quei pochi, diciamo, che parlano o che vogliono divulgare la democrazia in altri paesi, verso altri popoli, non sono altro che portare, che voler imporre dietro questa parola, diciamo, che si nascondono, vogliono portare democrazia, ma vogliono portare solamente il loro modo di governare, che è quello di imporre ad altri popoli il loro potere, il loro potere, la loro difesa dei propri interessi, interessi di pochi, diciamo, verso libertà, finché ci saranno queste imposizioni, queste guerre, proprio per imporre questo modo di governare, questo modo di fare ad altri popoli, perché è giusto che ogni popolo difende la propria storia, il popolo che deve, in tutti i paesi del mondo, deve decidere come essere governato o come vivere la propria vita e non che altri paesi o che altri governanti di altri paesi del mondo vogliono imporre a questi popoli. Non ci sarà mai libertà così, ci sarà solamente oppressione e negazione dei propri diritti, segregazione, oltretutto anche dei genocidi, perché vogliono imporre solamente con le armi, non vogliono imporre con la democrazia, non vogliono imporre come dovrebbe essere attraverso il dialogo, attraverso l'aiuto o la solidarietà, quella è la vera democrazia, andare ad aiutare o solidarizzare con altri popoli che difendono, che vogliono gestire la propria vita nelle loro forme, nei loro modi. Il 2014 può essere l'anno della svolta nel nome della libertà, quella vera? Il 2014 può essere la vera svolta nel momento in cui tutti quanti noi ci impegniamo politicamente, socialmente, a difendere i nostri diritti, a portare avanti le nostre esigenze, i nostri bisogni, bisogno di vivere una vita degna di essere vissuta. E la possiamo vivere, la vita, se abbiamo dei nostri diritti, diritti giustamente di avere una casa, di avere un lavoro, di avere da mangiare, di essere curati come sia degno di un essere umano, di respirare aria pulita invece di aria inquinata, soprattutto qua nel Salento. L'aumento dei tumori aumentano sempre di più, grazie proprio all'inquinamento che i vari padroni, i vari governanti che ci sono stati e che continuano ad essere, non se ne fregano niente della nostra vita e pensano solamente ai loro interessi, pur inquinando il terreno, inquinando l'aria, inquinando le falde alquifere che ci sono, inquinamento da tutte le parti, e solamente, io mi auguro, solamente attraverso il nostro impegno, veramente, se ci ribelliamo, se ci impegniamo tutti quanti nella politica, nel sociale, solidarizzando, aiutandoci tra di noi, e rimanere uniti, uniti come sfruttati soprattutto, come oppressi, solamente così possiamo, diciamo, possiamo dire, auguriamoci, o possiamo augurare un anno, un avvenire, un futuro migliore, sia per noi, sia per i nostri figli, sia per le persone che stanno male, per tutti quanti, solamente così possiamo, se non ci impegniamo e continuiamo a delegare da altri, di difendere i nostri diritti, non ci sarà miglioria, ci sarà sempre, come è sempre stato, negazione dei diritti, oppressione, e mancanza di libertà soprattutto, perché mancando il lavoro, mancando la cura necessaria, mancando quei diritti elementari, poi libertà non ci sarà mai, ecco, l'augurio che faccio, diciamo, a tutti quanti, è quello dell'impegno, impegniamoci tutti, e lottiamo, diciamo, affinché questi diritti vengono rispettati, questa vita degna di essere vissuta, veramente, si concretizza. Grazie Mario, io auguro anche a voi un buon 2014, abbiamo ascoltato Mario, una persona che ha vissuto anche in prima persona, la lotta della sopravvivenza, perché lui ha molta esperienza su queste cose qua, anche perché l'ha vissuto sulla propria pelle, io auguro un buon 2014, ripeto, e spero che sia l'anno della svolta, saluto a tutti quanti voi che avete ascoltato questa mia intervista a Mario Fracasso, che è una persona che si impegna, anche volontariamente, di fare queste piccole guerre, tra parentesi, che sono delle guerre non sanguinarie, ma bensì di buon auspicio. Grazie a tutti. Ecco, io questo impegno è stato uno spunto, questo impegno l'ho portato avanti per entrare nella mia personale esperienza, diciamo, io per dire la verità, a 18 anni ho dovuto lasciare il mio paese, ho dovuto lasciare la mia famiglia, ho dovuto lasciare i miei amici per emigrare, andare a Torino, per andare a lavorare, per trovare una vita migliore. Ecco, nel momento in cui ho preso coscienza delle mie condizioni di sfruttato delle mie, sia come mare fracasse, sia come classe, sia come persone sfruttate, mi sono ribellato, mi sono ribellato e ho lottato, diciamo, non ho mai perso il momento di impegnarmi e di lottare. Ho militato nelle Brigade Rosse, perché credevo, diciamo, che attraverso la guerriglia metropolitana potevo cambiare queste condizioni. Non è successo, ho dovuto pagare con il carcere, ho dovuto subire 24 anni di prigione, però non mi sono fermato, ho continuato a impegnarmi. Adesso lavoro presso la Casa Famiglia, la Delfia di Alessano, o presso il centro diurno Andrano, di Don Tonino Bello. Proprio sono contento anche che continuo ad essere a fianco a dei ragazzi, a delle ragazze, a delle persone, diciamo, che soffrono e che posso dare il mio contributo. Mi sono impegnato a scrivere, a scrivere, alla scrittura, ho scritto 11 libri fino adesso, proprio perché dobbiamo lasciare la nostra voce, la nostra rabbia, la nostra voglia, il nostro bisogno di avere giustizia in tutti i modi possibili. E soprattutto nella scrittura io ho trovato il modo proprio per lasciare questa testimonianza qua. Perciò vi auguro anche a voi e auguriamo a tutti quanti che questo impegno che io ho portato avanti lo portiamo tutti quanti, tutti quanti avanti, proprio perché la finalità è sempre che ci sia fratellanza, che ci sia amore, che ci sia uguaglianza e in mosele viene non un'guerra, come dicevamo prima, un'guerra di oppressione, un'guerra imperialista. Ecco, questo è l'augurio che io faccio. Solamente così veramente abbiamo soddisfazione di vivere questa vita, di vivere e di raggiungere il nostro fine che è quello di vivere una vita degna di essere vissuta. Vi auguro di nuovo un 2014 che sia diverso e migliore e hasta la vittoria sempre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.